Il più eccelso degli angeli fu mandato dal cielo per dire Ave alla Madre di Dio. Al suo incorporeo saluto, vedendoti in lei fatto uomo, Signore, in estasi stette, acclamando la Madre così. Il più eccelso degli angeli fu mandato dal cielo per dire ave alla Madre di Dio. Il più eccelso degli angeli fu mandato dal cielo per dire ave alla Madre di Dio. Il più eccelso degli angeli fu mandato dal cielo per dire ave alla Madre di Dio. Il più eccelso degli angeli fu mandato dal cielo per dire ave alla Madre di Dio.